Una discarica abusiva ai piedi del Monte Bulgheria e località Scudieri e quanto ha scoperto per caso e denunciato con un post su Facebook il primo cittadino di Celle, Gino Marotta. Si tratta di una colata di detriti, presumibilmente originati da ristrutturazione edilizie, gettata tra la strada comunale panoramica e una proprietà privata. Subito sono scattati i controlli dei vigili urbani per risalire il responsabile dell'abuso. Più che altro quello che vogliamo è invitarlo a ripulire l'area, ha spiegato il sindaco, che su Facebook ha lanciato un appello ai cittadini di buona volontà e che hanno a cuore la sostenibilità ambientale perché aiutino nelle indagini. Lo sversamento è avvenuto lungo un percorso agevole da percorrere, asfaltato, ma in un'area isolata, non immediatamente visibile, dove soprattutto non sono attive le telecamere. C'è però da dire che tra il materiale di risulta gettato illecitamente sono chiaramente visibili pezzi di mattonelle tutt'altro che anonimi, che potrebbero far risalire alla provenienza dei rifiuti edili e magari anche all'autore del reato. Nella cosa si stanno interessando i vigili urbani per preservare un territorio di pregio ambientale deturpato irresponsabilmente con tale sversamento, quando invece bisognerebbe ricorrere alle ditte specializzate ed autorizzate allo smaltimento di questo tipo di rifiuto speciale che si trovano anche sul nostro territorio. Ma questo, segnalato dal sindaco di Celle di Bulgaria, è solo un esempio del malcostume sempre più diffuso sul territorio che porta alla creazione di discariche abusive, in alcuni casi anche pericolose, quando ad essere gettato sconsideratamente è l'amianto.